Domani è una partita che noi bisogna assolutamente vincere perché veniamo in altre partite dove abbiamo fatto solamente due punti e veniamo da una sconfitta in casa con il Napoli. E quindi sarà una partita difficile perché mercoledì la Sampdoria ha fatto una buona partita contro la Roma, concedendo poco e niente, giocando una partita aggressiva. E quindi bisogna avere molta pazienza, giocare un buon calcio, continuare a giocare bene come abbiamo fatto a Bologna, come abbiamo fatto con Napoli, cercare di non subire golle, perché ne abbiamo subiti molti, e migliorare questa situazione. Quest'anno ero molto fiducioso del fatto che potevamo essere in una posizione classifica diversa, così non lo è, quindi la classifica non la guardo. La guarderò quando arriviamo a Natale, che secondo me gli saremo in una posizione diversa perché dobbiamo mettere a posto alcune situazioni nella fase difensiva di attenzione, perché abbiamo preso molti gol su disattenzione. La squadra a Bologna ha creato molto, ha giocato anche un buon calcio, un calcio piacevole, che dobbiamo continuare a migliorare, così come l'è stato con Napoli. E quindi sotto questo aspetto sono sorelle. È vero che sia un buon ritardo sulla classifica, è anche vero che ci sono tantissime partite da giocare, e quindi intanto cerchiamo di vincere una che quella di domani, e poi piano piano ci incammineremo verso la risalita.